Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Auguri amico mio, mi raccomando, un bellissimo anno All'insegna di troie, puttane e qualche tacca al cervello magari Di dole Joker Party Di negro Bello cazzo, bello, è una bellissima città Con Savio, niente, la butta fuori un'altra volta, ma perché? Cosa, cosa, cosa è successo? Scusami, mi sono perso, cosa è avvenuto? Inizio a fare le mosse alla Naruto prima, con le mani, con le sharinga, le moltiplicazioni del corpo Mi piace, sì Ma che è sto Bor, ragazzi? Cosa è Bor? Ok, già ma... Ma no, ma è obrobrioso Sì, lo so, però devi continuare, sì È il processo Ma sì, è il processo Lo dovevo calamità Sei pronto? Capo, vai, vai No, 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 no later, come back. Cosa succede? Come fa... Perché muove così bene la testa avanti in... Cosa? Emo, temo, 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 temo. Comunque mi ha slidato nei DM. Se no c'avevo solo le lo scarica quando lo riprendevo da... Dalla cosa. Ma ti ra spegni la luce durante gli horror? Eh, te credo, ho dovuto... No, c'è, una tengo, ma... Tengo... Ah, una... Sì, sì. Ma dove lo aspetta? altre 45 e mi dai che roba scusa? non ho capito Erlenca da a perfa Michelo lusi bosca tenente bentornati spq r1 r2 r1 r2 l1 r2 l2 r2 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 Lasci perde e ti riprendi l'aderenza Poi L2 Bam L2 R1 R1 Boom Bam Bam R2 R1 L2 R2 R1 R1 L2 R2 R1 L1 R2 L2 R1 Porco Dio sono Spider-Man Porco Dio sono Spider-Man Porco Dio sono Spider-Man Guarda quanto cazzo sono Devo segnare Devo vincere Devo vincere Per questo che non la Immobilio 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 Incontri il torneo Fa qualcosa di strepitoso Fa qualcosa di strepitoso Ma che cazzo sto a vedere Tipo prima che hai detto Che in discoteca che facevi De bello Immagine Appunto Qui in capo dai Giocavo Sì Giocavo Giocavo Simo Grazie per gli otto Seba grazie per i cinque Eccola 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 5 euro 5 euro 5 euro Che cosa sta succedendo Che cosa sta succedendo È un attimo Marzo È un attimo il rituale Guapitone mio Grazie Cagione Grazie per le 10 Maniaco Mauri Matte Andre Satan Bentornati e benvenuti Chi è il quattrocentesimo Trovamo Matti Grazie I piti 15 Fammi non spammetto Guancialone Ce so Cappo Cilla Alla Cappo Hai già Ma cosa è Oddio Ma che è un porco Era Oddio era Un porco Oddio era Cicciolina Me fa Una sega Me fa Me fa Una Pumpa Virg Anzi Senza virgola Com'è lo spazio? Triangolo Hashtag Me scopo i cavalli Tiè Guarda che cazzo De descrizione Che te faccia Me scopo i cavalli Meglio di così Se more Olè Me scopo i cavalli E questo E questo È solo l'assaggio Non puoi usare Questa descrizione Lei che ha Magari grazie per le 10 Sub giftate I persi un mico Per le Regà Oh No No Date Date Giorgio Get in Zap Hey Papa Mi Mi Si Cicca Me Mega Mega Win Epic Queen Oh 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 si si è staccato no teoricamente ok ma va pure dritta io la devo mettere dall'altra parte easy la porta è un'apertura che permette di passare da un ambiente a un altro è formata da un piano verticale di legno o altri materiali dotata di maniglia e quasi sempre di forma rettangolare oh madonna allora io mi seguo se la salernitana vince col Cagliari mi seguo cioè se la salernitana mi manda in B il Cagliari faccio unirla a Salerno faccio unirla in live a Salerno il 22 il 22 io c'ho il nero io per te c'ho il nero quando te esce? eccolo c'è ma c'è ma porco dio sono brutti da porco dio a me piacciono sono bellissime un cazzo fa di che sono bene che da vicino come il bruchetto Francesco lo sapevo porco holy shit what the fuck tu non hai idea tu non hai idea non so neanche cosa volevi da me no infatti perché non eri te rapi